Molto spesso si usano espressioni poco chiare Ad esempio Non stupitevi che i vostri bambini non vi capiscono E in questi giorni mi sono fatta i ragazzi Ecco adesso devo rivolgermi a Subisero Non muore mica Ma avete finito sta merda? Uno dei miei è stato rapinato da due tossici Tu come gliel'hai detto che non doveva toccare la tua roba? Dovresti fumare di più Mi sembra che tu abbia un orecchio Dico bene? No Comunque mi sembra che tu sia una persona Bea sta attento al fuoco eh Capisco che la tentazione di mangiare il vostro bambino è forte Piuttosto fumare una sigaretta È una prova un po' particolare Ne venderai uno E poi lo butti del fuoco acceso La mamma è proprio fatta Tutti felici Compresa laica Che scoppia Io sono un papà Fresco Quando esco Tutti mi dicono Bella Francesco Bella Bella Sio Anche tu Sia un pazzo